Torna il basket e la partita del palaestra alimenta grandi interessi se non altro perché la SBA è chiamata a riscattare il passo falso della scorsa settimana a Siena. L'avversario che si presenta non è certo di quelli agevoli visto che l'ABC di Castelfiorentino fa parte dell'otto delle grandi del torneo. A Siena la squadra ha conosciuto il primo passo falso esterno della stagione. Finora la tabella di marcia è stata rispettata e il quintetto aretino è chiamato ad alzare l'asticella. L'arrivo di un mental coach è stato visto con grande curiosità poiché dovrà aiutare soprattutto i più giovani a sentire il peso delle sfide e ci auguriamo che possa sortire effetti benefici. Da parte sua la rivelazione Synergy ospita domenica il Val di Sieve. Quello che ha fatto finora la squadra san Giovannese è stato semplicemente straordinario. La coppia Cherubini-Mijatovic promette scintille, chiude il cerchio la Fides di Montevarchi, ferma ancora quota zero in classifica. I gialloverdi vanno a cercare fortuna a Lucca, squadra che potrebbe essere alla portata dei Montevarchini. Nota curiosa sia nel calcio che nel basket e in questo weekend c'è la stessa città come avversaria. Scherzi di calendario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.